Blitz antiterrorismo in Russia, le forze speciali hanno ucciso due presunti ribelli, ferita e arrestata una terza persona. Sorvegliati da oltre un mese, i tre sono stati accerchiati in una casa di Orekhovozujeva, a 80 km a est da Mosca. Offerta loro la possibilità di arrendersi, hanno risposto aprendo il fuoco. Abbiamo visto alcune persone in tutta mimetica, vicino a un palazzo di due piani, tiratori nascosti sui garage dalla parte opposta. Tutti i trasporti sono stati fermati, racconta una testimone. La polizia ha bloccato anche l'accesso alla casa. Secondo le autorità si tratta dei cittadini russi addestrati tra il Pakistan e l'Afghanistan. Preparavano un attentato di grandi dimensioni nel centro della capitale russa, in un luogo molto frequentato. Grazie.